Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi sveleremo quali sono state le reali parole del neurologo per quanto riguarda la delicata situazione di salute di Simona Ventura che, da settimane, è affetta da paresi facciale. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Recentemente, Simona Ventura ha iniziato a fronteggiare una severa paresi facciale, che ha avuto conseguenze significative sul suo lavoro in televisione. Nonostante la sfida, ha continuato a mostrarsi coraggiosamente davanti alle telecamere, ricevendo supporto e complimenti da colleghi e ammiratori per la sua resilienza. Nonostante la paresi, ha partecipato a vari programmi televisivi, mostrando grande professionalità e impegno. La conduttrice ha attribuito l'insorgenza della sua paresi facciale a una prolungata esposizione al freddo, che ha aggravato la situazione. Il neurologo dottore Mauro Porta ha fornito altri dettagli tecnici sulla natura della paresi di Simona Ventura, che coinvolge il settimo nervo facciale. Il dottore ha specificato che il settimo nervo, essenziale per la mobilità facciale, è stato gravemente influenzato dalla condizione, causando anche problemi di lacrimazione e salivazione. Ha rivelato che la condizione è stata causata da un virus che ha colpito il nervo, portando a gravi conseguenze per il viso della conduttrice. Il virus responsabile è stato identificato come l'herpes zoster, noto per colpire anche altre parti del corpo, come le labbra. Questo virus può diventare particolarmente aggressivo a seguito di traumi fisici o drastiche variazioni della temperatura ambiente. Mentre la condizione non è considerata pericolosa per la vita, il processo di guarigione da questa paresi potrebbe durare diversi mesi. E tu cosa ne pensi delle parole del dottor Mauro Porta? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.